Saranno più lunghi del previsto i tempi per valutare le proposte di chi intende rilevare la Berloni. A gennaio previsti solo tre giorni di produzione e i sindacati pensano a un incontro al Mise per chiedere gli ammortizzatori sociali. Pierpaolo Rivalta. Cancelli aperti ma solo due auto nel piazzale e un cartello a confermare che in fabbrica si torna il 20. Dentro la Berloni solo qualche impiegato. Ieri il liquidatore Alessandro Meloncelli era a Pesaro e ha aggiornato i sindacati sugli investitori interessati a subentrare. Stiamo attendendo queste conferme perché per il momento sono dichiarazioni di interesse, poi si devono tramutare veramente di interesse concreto mettendoci veramente i soldi e la voglia di fare. Al momento siamo in attesa, siamo in valutazione. Non ci sono stati fatti nomi, c'è la riservatezza su questo, non siamo neanche noi a chiedere. Noi non ci interessa tanto chi ma che progetto ha. Questo è quello che gli abbiamo sempre detto. Noi siamo per continuare la produzione, noi siamo per mantenere vivo questo stabilimento. Degli 85 dipendenti scesi in sciopero a novembre, appena avuta notizia della messa in liquidazione, 11 se ne sono andati. Berloni per la sua storia rappresenta un valore ma il tempo è un fattore importante. Per il momento ha un fortissimo valore, però se la situazione si protrae rischiamo che questo valore sia in abbassamento. Infatti c'è il rischio di perdere contratti già stipulati, che i clienti attendono, attendono, ma la situazione la dobbiamo sciogliere. Nel mese di gennaio sono previsti solo tre giorni di lavoro per completare un vecchio ordine, poi peserà la mancanza di liquidità. A macchine ferme sarà sempre più difficile riavviare la produzione. Intanto l'ultimo stipendio ricevuto è novembre, dicembre, tredicesimo e gennaio. Noi dobbiamo richiamare la proprietà a una responsabilità che ha verso queste persone, che è quella di pagargli quello che gli è dovuto, almeno quello, cosa che qui in realtà non sta facendo nessuno.